Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Appena arrivato l'Asus Zen Watch 3 Sono molto curioso di provare i smartwatch In particolare Android Wear Perché mi incuriosisce molto E vediamo come funziona Questo è il prodotto Con il cinturino in pelle Molto bello Sembra scarico Lo metterò a caricare tra poco Poi dentro abbiamo anche Ecco qua abbiamo il caricatore Asus E basta invece qua sotto Vedo che abbiamo la base di ricarica Eccola qua Questa è la base di ricarica Di solito si mette sotto l'orologio Invece questa è una classica USB normale E poi nient'altro Allora sono molto curioso di provare questo prodotto E poi vi porterò la recensione Per questa rapida ante prima di tutto Ringrazio molto l'ufficio stampa Asus Per l'invio di questo prodotto E noi ci vediamo alla prossima Sempre qua su Mobile Phone Rando Ciao